Ti dico che ancora adesso se vedessi il secondo gol all'Australia piango. In realtà quando avevo dieci anni io non sapevo dell'esistenza del calcio femminile, non ne parlava nessuno. Abbiamo vissuto talmente tante cose insieme che separarci vorrebbe dire togliere proprio un mattone a una casa. Quando giochi con l'Italia dai qualcosa in più perché tutti ti fanno per te. Due volte nella top 11 mondiale e simbolo del calcio femminile italiano. E' passata a trovarci a Cantera Masterclass Barbara Baranzea. Dopo vi spiego.